Carmen. Si chiama Carmen. Dove vieni Carmen? Cinisello. Viene da Cinisello. Cosa fai di bello della vita? Faccio le merendine alla Ferrero. Fa le merendine alla Ferrero. Insomma ci fa ingrassare in poche parole. E come vorresti il tuo uomo ideale? Un uomo sincero. Quindi non come quelli che ci hanno fatto il bidone. Ho capito. Un uomo sincero. Quindi la sincerità è la prima cosa. Perfetto. Guarda io ti do questo messaggio e mi auguro che veramente cambi la tua vita. Prego, prego. Allora avete visto è molto semplice. Dovete guardare. Quando vedete una persona che vi piace, prendete carta e penna che trovate in tavola. Scrivete quello che vi esce dal cuore.